la sala da ballo in questi giorni di reclusione mi sono immaginata come sarebbe stato vivere dentro palazzo martelli fra salotti salottini giardini d'inverno sale da bagno e soffitti affrescati la casa aveva molti piaceri da offrire ai propri inquilini ma se c'è una cosa che invidio moltissimo alla famiglia martelli è la sala da ballo un ambiente alto esattamente il doppio delle altre stanze con pareti dipinte di celeste chiaro e decorazioni in stucco bianco che la rendono ancora più ampia e luminosa in alto un balconcino ospitava l'orchestra chissà cosa suonava io mi immagino un paltzer proprio come nel film di luchino visconti il gatto pardo e sotto sotto un ballo di società in grande stile le donne di casa martelli incipriate e infagottate dentro vestiti pomposi che ruotano attorno alla cornice ovale del pavimento in attesa che un cavaliere lo inviti a ballare al centro della sala lì proprio dove si trova una stella ad otto punte come sarebbe bello in questo momento poter aprire le porte delle nostre case invitare amici e parenti e festeggiare di nuovo insieme senza orchestre vestiti eleganti e tanti orpelli semplicemente riscoprendo il piacere di stare insieme